Cosa vuol dire essere un infermiere? Molto spesso pensiamo alle serie tv o ai film. Ho scoperto però che non è proprio così. Quando ho deciso di iscrivermi a infermieristica nemmeno io sapevo cosa aspettarmi, in cosa consistesse questa professione. Piano piano le risposte sono arrivate. Grazie alle lezioni di tirocini ho capito che è una professione a 360 gradi. I tirocini si svolgono già dal primo anno con delle simulazioni mentre dal secondo andiamo in clinica seguiti da di tutor. Lavoriamo in diversi ambiti sia intra ospedalieri sia extra ospedalieri come ad esempio RSA, ambulatori e scuole e siamo figurative in molti ambiti e in diverse fasi della vita sia dalla nascita fino al fine vita. Detta così può sembrare solo piena di amarezza e di dolore ma veniamo ricompensati da tanta gratitudine, tanta gioia e tante soddisfazioni. Quindi cosa vuol dire essere infermiere? Per me significa collere i problemi di cura delle persone con professionalità e competenza. in modo tale da promuovere la salute e il benessere sia del singolo sia della collettività.